Grazie e ringraziamo Bar la loggia Bar la loggia di Italia 43 Quante d'era il panettere di la pannuceria di Dix via Dante Zoscoli NEL manutenzione di mobile via Pagini e qui come la prova super piacere per quanto riguarda lo spacco 310 kg dell'auto gentilmente concessa da facciare ogni auto signori patrisetie patrisetie patrisetia a queste altre meta con dell'applauso per l'azio marrone a chi non c'è più non c'è più non c'è più tira sceglie Dai a figlia, dai a figlia, fai basta, fai basta stai, cai, dai, dai, dai Sì Vai a chi cazzo, vai Vai a chi cazzo, vai Vai a chi cazzo, vai